Ciao, allora, questa signora qua che adesso è sdraiata sul lettino, tutti i giorni viene qua da noi in Edna a fare il recupero funzionale per la sua schiena, per le sue spalle e più sul tratto cervicale. In più, ultimamente sta andando anche in palestra, ottenendo degli ottimi risultati per andare a rinforzare la sua muscolatura. Più la sua muscolatura è forte, più la sua schiena è stabile. Adesso, negli ultimi giorni, ha intrapreso anche questo cammino, la parte di massaggio decontratturante, perché comunque cambiando il suo stile di vita, iniziando a cambiare la sua postura, la sua muscolatura ha bisogno di essere rilassata, oltre con esercizi di stretching, anche con un aiuto manuale. Grazie.